Se è flaggata per l'anno scorso, la flaggo anche per quest'anno. Le scuole nuove invece, le scuole nuove vanno inserite da noi, oppure nessun rapporto, a quel punto io le tolgo. Quelle con le quali non avete lavorato. Rispondo un attimo a lui e poi me la ripeti. Lui dice, ma magari nel secondo anno non si è fatta viva, ma arriverà al terzo anno. Noi non è che la cancelliamo dall'elenco, è che gli eleviamo la spunta. Quindi, segnalateci differenze. Siccome avete tutti l'elenco che ci avete mandato l'anno scorso, usate colori diversi, plausibili, che noi lo capiamo subito, li andiamo a cercare e con facilità. Fra l'altro il sistema non ce le mette né in ordine alfabetico né in ordine regionale. Quindi noi, veramente, è un lavoro inaudito. No, 1027, 1000 e così. Quest'anno, voi, la spunta la metto io, voi ci dovete dire, confermo dall'elenco dell'anno scorso che mi avete mandato, ce l'avrete confermato. Confermo queste, aggiungo queste, queste altre, no, me lo dovete segnalare, perché io così, vabbè, è la stessa cosa per differenza, però va bene. Non vuol dire, ha fatto l'inertività così, però non le leviamo. No, non le leviamo, sono già inserite nel nostro elenco. Scusate. Per l'attività Cusmi Bio, perché le scuole con cui abbiamo fatto il laboratorio PLS, diciamo, sono le scuole con cui interagiamo di più. Cusmi Bio, sono arrivati da, 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 da tanti, e quindi quella va contata, quindi aggiungiamo anche, sì, sì, certo. Ma queste scuole ne vengono inserite? Perché no? Why not? Scusatemi, sono ragazzi che sono venuti, gliel'abbiamo detto noi, l'abbiamo allargato noi, perché no? Adesso, esatto, quindi. Senti, a proposito dell'elenco delle scuole, indipendente dall'attività, perché possiamo averle in attività A, B, C, D? A, B, C, D, no, 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 no. Ok. Su tutte, il totale. L'elenco totale. Tutte le scuole con cui a qualunque titolo avete avuto rapporto quest'anno. Quindi differenziando dall'elenco, usate lo stesso elenco perché ce l'avete già scritto. Chi altro aveva chiesto? Volevo chiedere, per quanto riguarda l'attività di autovalutazione, in questo caso i docenti, gli insegnanti delle scuole, sono stati coinvolti nel senso che, conteggiati diciamo, perché sono stati i docenti che hanno indirizzato i ragazzi alla partecipazione, ma non sono venuti a svolgere delle attività o noi da loro. Quindi li possiamo comunque includere nel conteggio. Grazie. Però, siccome prima avevi detto che il Cusmi Bio è anche un'attività di autovalutazione, ma nel momento in cui l'abbiamo conteggiata nell'azione A, non va conteggiata poi successivamente nell'azione B. Io l'ho conteggiata nell'azione A. Il fatto che hanno fatto... E non è va nell'azione A, va nell'autovalutazione. Allora, va nell'alternanza o nello stage se hanno vinto. Gli stage vanno nell'A se hanno fatto i vincitori. Tutti i partecipanti hanno fatto un'azione di autovalutazione. E così i docenti che eventualmente li hanno accompagnati o li hanno comunque fatti iscrivere. No, era un dettaglio praticamente sempre riferito al concorso Cusmi Bio. Una scuola che fa parte, che è partner del mio progetto, che aderisce a Cusmi Bio, ma gli studenti per loro comodità vanno a svolgere la prova in una sede ad Ateneo diversa. Chi li conta? La scuola fa parte del mio PLS. Io, io... E allora prendeteli tu. Segnala all'altra sede questo problema in modo da trovare un accordo. I vincitori se li prende chi li accoglie? I vincitori, quelli che fanno lo stage se li dichiara chi li accoglie. Comunque. E se li accogli? L'autovalutazione potrebbe... Insomma, a questo punto sono piccoli e in ogni caso, se tu sai chi è la sede, sai chi è il collega, vi parlate e vedete chi ha problemi per il numero, no? Cioè chi è più lontano dal target e chi fa più comodo. Sempre per le attività di autovalutazione. Abbiamo avuto all'inizio 250 iscritti, però poi di fatto hanno frequentato 100 iscritti. Avendo chiesto ai ragazzi che cosa era successo, mi sono resa conto, loro mi hanno risposto, che il nostro corso, diciamo, se fosse stato più articolato, ecco, io voglio dire, se è possibile stimolare in qualche maniera, al di là dell'iniziativa del singolo referente di sede, una cooperazione tra i vari PLS per organizzare queste attività di autovalutazione. Cioè, io nella stessa giornata, in accordo col PLS di chimica, ho fatto frequentare i ragazzi due ore di biologia e biotecnologia e due ore di chimica, a luglio. Però, ecco, se avessi... Tu per autovalutazione gli hai fatto fare attività, un corso di preparazione al test, che poi è stato valutato attraverso il risultato del... Ok, e tu dici sarebbe opportuno con gli altri PLS di altre discipline, per esempio matematica e fisica, ma questo dipende dai referenti locali, dipendersi il telefono... Allora, sono convinta che su questo problema dell'autovalutazione, siccome un grosso problema è costituito dalla matematica e solo parzialmente dalla fisica, ma questo credo che dipenda molto dalle sedi, su questa cosa discuteremo sicuramente nel convegno di febbraio, perché non c'è dubbio che la matematica, non si può fare la sua attività interna solo per la classe di laurea di matematica, poi i matematici sono i matematici che vengono da noi. Non è facilissimo coinvolgerli, ma bisogna tentare, perché... E io qua devo dire una cosa, io l'anno scorso, e questa attività l'avevo rendicontata già nell'anno prima perché ci avevo pensato per tempo, avevo proprio finanziato un'attività di supporto per i nostri studenti di primo anno, per la riduzione degli abbandoni. Non sono stata molto contenta di come loro hanno svolto questa attività, perché non hanno saputo cogliere l'occasione anche di avere avuto in fondo un supporto per migliorare la loro performance comunque come docenti del corso di studi. Soprattutto in un caso c'è stata una lettera di lamentere degli studenti al presidente del corso di studi che uno dice, ah sì? E allora io non vi finanzio più niente, ve la vedete fra di voi, perché non avete neanche capito che era un'occasione questa cosa. È una reazione emotiva sbagliata, perché uno li dovrebbe invece prendere e dire, per piacere, ripensa a questa cosa. Sono convinta che questa cosa però è difficile che riusciamo a dirgliela noi, se la devono dire fra di loro, perché i matematici se la fanno dire dagli altri matematici al massimo come dovrebbero svolgere le attività così. Ciò non significa che poi localmente, sede per sede, più uno riesce a collaborare meglio è, perché noi sappiamo che soprattutto per l'azione 4, la di, i problemi dell'abbandono non nascono dalle nostre discipline, non nascono dalle nostre discipline, perché i ragazzi, al di là di quelli che vanno a medicina, ma poi quelli che sfuggono per altri motivi, non sfuggono perché non gli piace, no, non fuggono per la zoologia e per la botani, non fuggono per la zoologia e la botani, fuggono per le altre, neanche per la citologia, cioè fuggono per le altre. Allora, no, 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 dai, non fare il scattivo. Va bene, ok, poi ovviamente ci sono situazioni e situazioni, chiaramente, comunque, va bene. Ok, quindi tanto di guadagnato, si dovrebbe fare di più già. Io, per la mia esperienza, nella mia sede, ho lavorato sempre molto insieme con chimica e geologia, perché con i geologi siamo anche nello stesso dipartimento, ma fondamentalmente perché ci rivolgiamo agli insegnanti della stessa classe di concorso. Con matematica e fisica abbiamo avuto meno interazione. Sarebbe necessaria una maggiore. Chi altro mi aveva chiesto? Io voglio dire che per le tabelle del sito che stiamo compilando, l'attività di stage non è indicato da nessuna parte il numero di studenti che hanno partecipato, però ci chiede dopo quelli che hanno partecipato con l'alternanza scuola-lavoro. È una dimenticanza o... Penso che sia una dimenticanza. Certo, di 1 prima, eh. Di 1 B. Di 1 B. Allora, nel tempo che lui si chiarisce questo problema, ok? In ogni caso ricordatevi che tutto questo è monitoraggio interno e serve un po' a descrivere il progetto, però le cose più importanti sono rendicontazione finanziaria e indicatori. Arriviamo all'indicatore dell'azione D. È state zitte. Che siete in prima fila e quindi... No, loro non sentono. Allora, azione D. Gli indicatori. Ribadisco, anzi, dico per chi ci sente per la prima volta e ribadisco per chi l'ha già sentito, che in realtà non è descritto così bene questo indicatore. Quindi fate riferimento per cortesia alle linee guida, perché l'indicatore intanto riporta due voci. Sarebbe C4 e ci dice, il primo riquadro, nel primo riquadro bisognerebbe scrivere il numero di studenti che si iscrivono al secondo anno, dei corsi di studio PLS dell'Ateneo, è chiaro che qua si tratta di L2 ed L13, perché questo è il nostro progetto. Quello che non c'è scritto è che sono gli studenti immatricolati 2015-2016, immatricolati quindi immatricolati, che si iscrivono al secondo anno, nel 16-17. Questa è una richiesta del monitoraggio. Il riquadro successivo di questo monitoraggio, nel riquadro successivo c'è scritto subito sotto il numero di studenti, non c'è scritto, della stessa corte, quindi 2015-2016, che si sono iscritti nell'anno 2016-2017, al secondo anno dello stesso corso di studi, L2-L13, con 30 CFU. Almeno 3, maggiore o uguale, maggiore o uguale di 30 CFU, che è chiaramente un sottinsieme dell'insieme subito del riquadro superiore. Chiaro che se tu hai i due valori, puoi fare la percentuale. Quello che a noi serve assolutamente è il secondo valore. Poi se c'è anche il primo, tanto di guadagnato. 30 CFU. Non è negoziabile, sono 30 CFU. Dovete chiedere ai vostri uffici di Ateneo, che sicuramente tutti sono in grado. E' vero che erano pronti quelli con 40 crediti, ma il PLS, nelle linee guida, ha scritto 30 crediti. E quindi non possiamo fare diversamente da così. Su questa cosa. Dico subito, perché era stato richiesto, che c'è un altro passaggio più avanti, il G9B. G9B alla fine. nelle ultime pagine, in cui si sta parlando dell'azione di riduzione del tasso di abbandono, che è G, quindi, in cui, purtroppo le pagine non sono numerate, ma comunque col G9 lo trovate, che non è il G7, ma è il G9, vi chiede che è un indicatore di efficacia dell'azione svolta quest'anno. di nuovo, sopra c'è scritto gli OFA, e quindi se avete fatto un'azione con la matematica, o se avevate OFA, per chi ce l'ha, credo che nessuno abbia OFA per la biologia. Ah sì? Ci sono anche? Va bene. E quindi potete farlo. Se qualcuno avesse fatto attività con la matematica, per riduzione degli OFA, lo può mettere, ma ci chiede di nuovo percentuale di studenti, e qua ci chiede la percentuale già calcolata, è bellissimo che ci chiedono un'altra cosa, che acquisiscono 30 CFU al termine del primo anno. Ora, siccome si tratta di una cosa che serve a misurare quanto ha funzionato l'azione D, in questo caso è la Corte 16-17. Chiaramente, non è quella di prima, è un'altra, allora perché? Allora perché ci complica? Sono quelli di quest'anno. Siccome le regole di chiusura delle iscrizioni al secondo anno, eccetera, eccetera, potrebbero non essere ancora chiuse, sono diverse, potrebbero non essere chiuse, potreste avere difficoltà a raccogliervi, chi ce li ha, li mette, chi non ce li ha, non li mette. Va bene? Allora, tutto quello che voi riuscite a raccogliere come dato è tanto di guadagnato, però noi dobbiamo distinguere sempre i dati super necessari dai dati che si può mettere o non mettere. Ok? Quindi se avete difficoltà a raccogliere questi dati, non ci fa niente. Mentre, sul C4, però ci possono essere anche delle altre cose. quindi io dico quello che voglio dire è che C4, non mi dite che non li avete questi dati, perché i dati di C4, che erano quelli dell'indicatore dell'azione D, li avete raccolti l'anno scorso, li dovete raccogliere quest'anno. E non c'è discussione. Quelli della Corte 15-16, iscritti all'anno 16-17, al secondo anno con 30 credi. Su questi non si transigge, perché poi è l'indicatore più importante per il Ministero. Perché? In realtà, perché è più importante questo? Se tu fai bene l'azione A, l'azione B e l'azione C, i ragazzi arrivano più preparati al primo anno. E si arrivano più preparati perché i loro insegnanti sono più aggiornati, perché sono più motivati, perché gli abbiamo fatto vedere tutte le meraviglie del mondo, abbandoneranno di meno e saranno più in grado di acquisire crediti, tranne quelli che vanno a medicina, che li abbiamo preparati troppo bene. Ma questo poi ce lo motiviamo così. Al Ministero della... Perché questo finanziamento è della Direzione Generale dell'Università, non dell'istruzione. Attenzione. All'Università interessa la riduzione del tasso di abbandono, che tu raggiungi, abbiamo letto la lettera del Ministro, attraverso attività nelle scuole e nell'accoglienza del primo anno, nell'autovalutazione e nel corretto orientamento. Allora, l'attività che fai nella scuola è tutta finalizzata con corretto orientamento. L'attività che fai di dire, guarda ragazzo, ce la puoi fare, non ce la puoi fare, oppure ti faccio del supporto per fartela fare. Tutto, alla fine, dove porta? Che si iscrivono 250 e una percentuale considerevole di questi 250 si riscrivono al secondo anno e per giunta con 30 crediti. E se ne hanno 40 è ancora meglio. D'altra parte, l'indicatore dell'iscrizione al secondo anno con 40 crediti, la percentuale, non il numero, è uno degli indicatori dell'ANVUR pazzeschi, che ce l'abbiamo visti tutti. E tutte le università stanno facendo il possibile e l'impossibile per aumentare queste percentuali. Noi, non lo dovrei dire pubblicamente registrata, però diciamo che per fortuna siamo nella scia. Perché se l'università, con tante altre azioni che confluiscono in questa, favorisce l'acquisizione dei crediti con lavaggio del cervello ai docenti, con formazione dei docenti, con miglioramento, tutor, eccetera, eccetera, oltre a quelli che possiamo mettere a disposizione noi, è chiaro che dovremmo andare meglio. Io non penso che ci sono atenei che in questi anni possano peggiorare la percentuale di studenti che si iscrivono al secondo anno con 30 gradi. Non credo. Perché tutto confluisce in questa direzione. Quindi sono molto fiduciosa. Molto fiduciosa. Ancora. Prima di andare ai particolari. L'altra cosa importante è concludere il consuntivo. Per chi è qua e per chi ci sente da casa, chi non è riuscito a spendere la quota del finanziamento ministeriale del primo e del secondo anno, è pregato di contattare me o la dottoressa Messina il più presto possibile. Perché dobbiamo saperlo, vediamo che cosa possiamo suggerire per aiutarli, ma sappiate che è una cosa molto delicata. Perché al di là della quota di cofinanziamento, tutto ciò che non sarà speso, che non è stato speso entro il 30 ottobre, non è stato impegnato amministrativamente, che non è stato impegnato amministrativamente, sarà sottratto, secondo quello che c'è scritto nelle linee guida, io spero di no, ma temo di sì, dall'FFO dell'Ateneo di Catania. Quindi, su questa cosa, è veramente un problema. Ve l'ho scritto in tutti i modi, in tutte le lingue, credo, ve l'ho detto, ve l'ho ripetuto, credo che tutti l'abbiano percepito e credo che siano soltanto pochissimi gli Atenei che non sono in condizione di avere speso la loro quota di finanziamento, anche perché serve a dimostrare che era troppa. Giusto? Se io non sono riuscita a spenderla in due anni, significa che i soldi ottenuti erano troppi. È vero che ci sono difficoltà di spese, è vero che ci sono difficoltà amministrative, è vero che c'è l'autonomia dei regolamenti, e per cui abbiamo visto di tutto e di più. Però alla fine era meglio spendere magari in un'altra voce piuttosto che non spendere. Terza cosa, preventivo. Poiché il preventivo, per fare un preventivo di spesa, uno deve avere l'idea di quanto avrà, lo rimandiamo, lo rimandiamo. Entro il 15, diciamo, entro più tardi il 17, voi dovete avere completato le altre parti. Sulla base di quello che riusciamo a tirare fuori, vedendo ciò che avete speso e cosa avete fatto, seguendo i criteri che sono scritti nel progetto, e quindi si tratta di applicare criteri definiti e pubblici e trasparenti, vi dirò quanto vi toccherà per la terza annualità. Erano un po' di meno di partenza, una parte, come sapete, l'abbiamo utilizzata per fare un certo contratto, l'altra cosa che devo aggiungere e devo ribadire è che se qualcuno non ha speso, ovviamente mi devo tenere la parte che non ha speso e se ha dimostrato di non riuscire a spendere avrà certamente di meno. Il primo anno abbiamo distribuito uguali per tutti, il secondo in tre o quattro fasce di differenza, quest'anno sarà applicato in maniera più rigida le differenze, pur tenendo conto delle difficoltà di chi ha avuto particolari situazioni, di chi ha avuto, perché so che ci sono stati anche problemi di dipartimenti, confluenze, problemi amministrativi che possono essere i più diversi, però è chiaro che chi è riuscito a spendere tutto seguendo le percentuali, ha azzeccato tutti gli indicatori, eccetera, sarà in prima fascia in maniera e poi man mano. Quindi aspettate che noi vi comunichiamo la cifra che vi sarà assegnata e dopodiché farete il consuntivo che non è il preventivo scusatemi, ho sbagliato proprio, il preventivo che dovrà cercare nei limiti del possibile le percentuali di spesa e per azione e per voce di spesa previste dal vostro progetto che voi conoscete benissimo. Chiaro poi che se uno c'è il problema che l'Ateneo non ti fa pagare il personale tecnico-amministrativo quella voce mettetela a zero e spostatela dove potete cercando di evitare le voci più richieste che tutti vorremmo utilizzare che sono il personale non di ruolo il materiale di consumo e l'inventariabile. allora l'inventariabile e lo so e lo so e tutte le vogliamo tutte le vogliamo trovate qualche cosa trovate un modo eventi organizzazioni si tratta di burocrazia creativa amministrazione creativa una domanda un'informazione si possono far partecipare docenti delle scuole superiori a congressi di una società scientifica per indirizzare in questo in questa voce rispetto esatto cioè prevedere però se siamo in difficoltà nella riallocazione dei fondi per cui non possiamo spenderli qui perché i contratti per i tecnici non si fanno non li possiamo spendere lì perché ci sono difficoltà amministrative quota parte della terza annualità la mia idea sarebbe questa in teoria prevedere all'interno di una sessione congressuale una mezza mattinata dedicata alla didattica della biologia dello sviluppo in modo tale che si possano coinvolgere i docenti e allocare in quella voce di spesa una formazione per docenti io dico che potrebbe essere anche così direttamente l'altro modo indiretto è se si riesce a fare la convenzione con la scuola di passare i soldi alla scuola nel terzo anno e farglielo pagare alla scuola che è ancora più semplice eh perché no però io penso che è di fatto se non è precisato la procedura selettiva allora che no scusa no no nell'amministrazione pubblica esiste questa regola per cui tu non puoi corrispondere dei fondi se non c'è una pubblica selezione per arginare la pubblica selezione fatta dagli atenei o si trasferiscono i soldi alle scuole e si dice fatela voi oppure fai una convenzione come ecco se l'hai fatta allora dentro la convenzione se hai previsto un pagamento puoi bypassare questa regola generale io così mi sono mostrato ho fatto la convenzione con la scuola per esempio i testi e per i testi e per i testi e per la votazione esatto ho dedicato alla scuola a ripartizione che condita i docenti e i personali allora questa è la via maestra ed è una buona via l'altra via è che comunque quando tu coinvolgi i docenti delle scuole gli insegnanti a fare delle attività e so che lo hanno fatto in molti li paghi come attività di seminario entro le otto ore e questo molti atenei lo fanno e lo fanno tranquillamente e va bene i matematici fanno così esatto esatto è una procedura ci sono le procedure là ovviamente siate creativi però appoggiatevi alle amministrazioni dei vostri atenei perché ogni ateneo ha delle regole un po' diverse è vero che c'è la pubblica amministrazione che dovrebbe avere delle regole comuni però l'interpretazione della regola comune è sempre autonomistica quindi bisogna trovare il modo secondo me facendo un congresso scientifico in cui si dedica un'attività secondo me sarebbe ridicolo non poterlo fare ed è organizzazione di eventi poi al di là della regola generale dell'amministrazione dell'ateneo parlatene con i vostri segretari amministrativi che sono quelli che poi devono certificare e firmare per l'allegato A4 ok quindi anche certo è organizzazione di eventi tu fai assolutamente assolutamente è plausibile anzi grazie per il suggerimento tenetene conto ancora cosa abbiamo detto stamattina nella scheda di monitoraggio c'è la descrizione degli eventi qualcuno mi ha detto che non è così vincolante il limite dei 3000 caratteri però io vi dico che se vi allungate troppo non vi leggo ed è come mettere zero perché dovete avere pietà di me quindi per piacere capacità di sintesi senza sbrodolamenti senza descrizioni del particolare che sono bellissimi ma non è il coso me ne devo leggere 43 come? e vabbè certe volte sono stati fatti sintetici lo so che 3000 caratteri 4000 caratteri sono pochi però alla fine se uno secondo me c'è la possibilità di comunicare in poche parole le attività che sono state fatte fate questo sforzo in quella descrizione io ci avevo messo anche il numero degli studenti e dei docenti perché era utile per me poi per fare l'altra tabella e lo levo quindi non serve a te quando lo guardi lo trovo nella tabella quindi lo vai a cercare ok quindi per piacere sintesi e mettete in evidenza le cose più belle che così la può già giustificare in sede di compilazione cioè io ho speso no nel senso io ci penso però se mi dare le noti quello voglio dire nel senso le note perché ho fatto una pezza d'appoggio ok infine nella somma generale può darsi che non ci sia stato quello sforamento la rendicontazione è generale no? per fortuna la rendicontazione economica è generale quindi abbiamo cercato di compensare devo dire che Giuse ha fatto un lavoro pazzesco di mediazione tira di qua tira di là perché perché ognuno voglio dire tutti volevamo spendere tutti sulle stesse cifre se dovessimo poter fare un altro progetto lo sappiamo dove mettiamo i soldi e sarà bellissimo proprio ce lo devono di farlo durare almeno altri tre anni ora che abbiamo imparato ora che abbiamo imparato ci siamo stabilizzati abbiamo capito come fare esatto allora alcune altre cose che voglio dirvi ancora abbiamo scoperto che restava qualche sacca di non comprensione sul fatto che è possibile d'altronde nel momento che era richiesto dal monitoraggio vuol dire che era possibile fare col PLS collaborare con le scuole anche per l'alternanza lo ridico per tutti l'unico vincolo come si evince dal mio messaggio del 15 dicembre che abbiamo ricercato è il fatto che ci sia la convenzione con l'Ateneo e che si rispettino le procedure previste dall'alternanza perché lo dico perché alcune volte le scuole hanno difficoltà anzi senza alcune volte le scuole ormai hanno difficoltà estrema a trovare sedi per l'alternanza e visto che il piano lauree scientifiche è un'occasione ci consente anche di raggiungere scuole magari con qualche progetto di alternanza che poi le agganciamo per le altre cose quindi è una procedura di marketing siccome loro hanno il problema dell'alternanza se noi gli diciamo va bene qualche stage per l'alternanza te lo possiamo garantire va bene io devo dire che per l'alternanza ho utilizzato proprio gli stage dei premiati no io 10 ne ho premiati ma siccome l'hanno fatto nel mese di luglio che sarebbe il periodo giusto perché la lamentela delle scuole è costante e continua sul fatto che se l'alternanza non è gestita in maniera estremamente organizzata gli insegnanti si trovano le classi continuamente decimate allora proporre attività di alternanza nel mese di luglio di quarto anno terzo anno e anche settembre quando i ragazzi non perdono scuola non gli crea problemi loro vengono volentieri noi forse siamo un pochino anche meno ingolfati dalle lezioni in realtà è un'occasione e fra l'altro serve anche ad educare il fatto le scuole e le classi che l'alternanza non si deve fare nell'orario scolastico perché è vero che poi hanno una discontinuità di azione didattica pazzesca io ho sentito la mentele incredibili con tutti i docenti con cui noi parliamo perché o riescono a piazzare la stessa classe tutta nella stessa settimana oppure esatto e da noi allora vi racconto questa cosa c'è stato un liceo di Catania che ha fatto sciopero perché proprio contro la gestione dell'alternanza in quella scuola la dirigenza scolastica li ha puniti non mandandoli alle attività esterne e quindi gli ha impedito di venire a Unistem e allora una ragazza che era figlia di un tecnico del mio dipartimento si è preso un giorno di vacanza ed è venuta e io ho detto va bene ti accogliamo perché voglio dire capisco che poi loro avevano ci avranno messo il loro anche i ragazzi che hanno trovato questa scusa per fare un po' di cosa la scuola ha voluto fare questa azione che però secondo me è stato un po' di auto di auto un boomerang allora la richiesta di poter attestare le attività fatte nel PLS con l'alternanza scuola lavoro nei laboratori che abbiamo fatto noi è costante continua io però personalmente ho avuto difficoltà ad adeguarmi fino in fondo a questa richiesta perché le scuole avrebbero voluto l'inserimento in una piattaforma che forse è la piattaforma mia d'Ateneo forse è una del MIUR e io neanche l'ho guardata in cui per ogni studente andava indicato il progetto formativo eccetera e io ho detto non lo possiamo fare noi non lo possiamo fare ecco quindi ho proposto solo e rilascio personalmente con il logo del PLS anche delle attestazioni rilasciate da me come referente però vi volevo dire che in qualche caso qualche scuola mi ha detto che loro hanno la facoltà di riconoscere all'interno dell'istituto anche queste attestazioni io adesso non so gli altri Ateneo ad esempio a Torino ci sono attività che possono essere erogate come alternanza scuola lavoro che devono passare attraverso una piattaforma c'è il progetto formativo per i singoli studenti e devono essere da noi minimo 60 ore quindi chiaramente lo stage di una settimana non rientra però queste scuole credo che si riconosca riconoscono allo studente un'attività fatta sulla base di una certificazione che però cosa diversa è dalla convenzione per l'alternanza quindi io non la metterei esatto in realtà noi abbiamo fatto in questo modo all'Aquila la stessa cosa che avete fatto voi ovvero sia certificazione della presenza in stage e poi un'altra cosa le ore che hanno utilizzato successivamente gli studenti per relazionare l'attività fatta presso l'università quelle sono state certificate dagli insegnanti come alternanza scuola lavoro quindi poi il ragazzo ha fatto le relazioni in aula e quelle ore sono state rende contate come alternanza scuola lavoro Cosentino cosa eh vabbè allora quando siamo andati con Cosentino e Boffi dalla Palumbo che era la responsabile di direzione generale bla 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 ci ha detto non c'è nessun problema purché si rispetti le regole dell'alternanza allora eh io so che loro devono fare 70 ore in un anno ma che molte ore gli fanno delle attività preparatorie per cui l'attività effettiva in uscita non deve essere 60 dico questa è una vostra regola interna evidentemente da noi non è così le scuole hanno previsto una certa quota di formazione a scuola fatta da loro e poi vengono secondo me noi dichiarare cioè noi possiamo partecipare perché tu a quel punto devi nominare un tutor esterno perché noi siamo tutori esterni in quel caso e certificare le ore che hanno fatto la settimana da ricercatore se tu fai 7 ore per 5 giorni dal lunedì al venerdì sono 35 ore e vanno benissimo non ci hanno fatto nessuna difficoltà tutti i ragazzi che hanno fatto lo stage con noi sia quest'anno che l'anno scorso hanno avuto riconosciuto dalla scuola certo non siamo noi che dobbiamo certificare questo no se la scuola l'ha fatto e noi lo sappiamo perché tu come università hai dovuto firmare col tutor interno il progetto formativo quindi lo puoi indicare come no io dico soltanto che sulla base dell'esperienza nostra noi come università quindi servizio di orientamento praticamente accogliamo gli studenti in alternanza scuola lavoro considerando che noi siamo l'azienda ospite ok e c'è tutta la procedura con tutta la documentazione questo proprio perché quelle due settimane tre settimane quattro settimane a seconda dell'organizzazione che poi è diversa a seconda della classe pure è all'interno di questa procedura che richiede anche all'azienda di compilare quella modulistica al di là di questo alcune scuole che vengono a fare lo stage PLS con me poi utilizza la scuola senza richiedermi tutta la procedura ma lo utilizza come ore che loro mettono nel monte ore che la scuola utilizza come alternanza cioè sono due tipi di rapporti allora queste scuole fanno una procedura che la direzione generale del ministero non condivide e non e ignora a noi la dottoressa Palumbo ha detto nulla osta purché si segua alla lettera la procedura quindi noi siamo azienda esterna non c'è dubbio e firmiamo i documenti come azienda esterna eccetera eccetera ci vuole la convenzione è così poi se le scuole fanno delle procedure che noi non sappiamo e non condividiamo perché non sono corrette non è un problema nostro scusa Paolo ora rispondiamo rispondiamo a Francesca Beolchini al di là della procedura da seguire che può cambiare da Ateneo a Ateneo io penso che nel problema dell'alternanza scuola lavoro c'è un problema di fondo che è anche economico nel senso che le scuole ricevono per gli studenti dell'alternanza scuola lavoro una certa sovvenzione allora cioè come noi quando lavoriamo con le scuole facciamo una convenzione per pagare gli insegnanti delle scuole le attività di alternanza scuola lavoro che in teoria sono finanziate alle scuole e in qualche modo gli universitari perché devono farle gratis questo penso che sia il punto allora qui hai toccato un problema che noi nel mio Ateneo ci siamo posti ed è successa una mezza rivoluzione perché effettivamente la scuola prende un totto per studente che è coinvolto nell'alternanza ovviamente la scuola non intende non intende condividere nella maggior parte dei casi questo finanziamento con l'azienda con l'azienda l'Ateneo inizialmente aveva detto voi ci date un totto per studente quelli alcune scuole hanno detto state freschi andiamo da altre parti ma è un errore per noi dire così perché alla fine tu fai comunque orientamento per mia esperienza proprio diretta le scuole meno altolocate sono disponibili a pagare l'attività perché sanno che se no non sarebbero accolte le scuole più fighette fra virgolette invece dicono a noi che ce ne frega tanto noi siamo la scuola fighetta della città noi troveremo comunque anche se abbiamo 25 sezioni siamo il mezzo meglio che c'è in città e quindi o ce le fate gratis oppure noi neanche ve li mandiamo ci dovete dire grazie allora è chiaro che questo poi viene lasciato a rapporto con gli insegnanti a rapporto con le scuole non c'è una regola che possa andare bene per tutti sarebbe giusto che loro partecipassero alle spese d'altra parte tu puoi anche dire va bene io come offro tante attività che offro alle scuole nel PLS se ti offro anche questa possibilità e sarebbe giusto farlo con le scuole meno fighette proprio perché hanno più bisogno hanno più così lo facciamo per chi ce la fa per chi lo vuole fare per chi lo può fare poi se ci sono scuole che fanno questa cosa come voi dite non lo voglio neanche sapere perché quella poveretta mi ha detto no purché ci siano tutte queste cose dico non è un problema nostro tu tu gli rilasci quella cosa poi loro ne fanno quello che vogliono piccolo cortile piccolo cortile ma questa cosa su facebook comunque non è che viene mandata a tutti il mondo vero? perché è così? la dottoressa Palumbo come? ok va bene la dottoressa Palumbo che era la non so se è ancora direzione generale quella responsabile di questa cosa fa parte del comitato tecnico scientifico del piano lauree scientifiche perché c'è un comitato tecnico scientifico mi pare presiduto da Nicola Vittorio poi c'è Livon poi c'è la Palumbo poi ci sono una persona dell'Anvor una di Confindustria un rettore della Cruy eccetera eccetera mi hanno raccontato io non c'ero che alla prima riunione lei ha cominciato a dire ah l'alternanza perché non ci mettiamo utilizziamo questo finanziamento anche per l'alternanza e Livon ha detto ma voi avete i vostri soldi questi sono i fondi dell'università e basta d'altra parte tu se una scuola ti dice cioè io ti faccio questa attività e mi rifiuto di firmarti la convenzione o di farti il piano formativo secondo me in certi casi te lo puoi permettere se hai 25.000 scuole che ti chiedono di farlo senza anche l'alternanza se invece hai difficoltà a coinvolgere le scuole o ti interessa quella zona quel territorio o quella cosa lo fai e punto è basta perché secondo me sarebbe veramente incredibile che tu dici questo lo faccio perché PLS sono i fondi del ministero della sezione università e tu invece ancora buonsenso buonsenso e flessibilità io invito comunque che chi lo fa si assicuri cioè sarebbe meglio che ci assicurassimo che quando viene che ci sia che lo faccia con le convenzioni eccetera allora c'era una domanda online e allora dice la Francesca Beolchini di Ancona alcuni fondi relativi ai compensi al personale sono stati assegnati in consiglio di dipartimento antecedenti al 31 ottobre 2017 guardate che era 30 ottobre o attraverso altri documenti quali richieste di seminari datati comunque entro il 30 ottobre ma non ancora pagati siccome la dipende allora noi li abbiamo inclusi nella rendicontazione 16-17 allora c'è una delibera di dipartimento il problema è se c'è un impegno di spesa amministrativa e se soprattutto il segretario amministrativo che è quello che deve firmare l'allegato 4 interpreta questa presa di posizione del dipartimento di richiesta e di attivazione e pagamento come un impegno di spesa e quindi è disponibile a firmare che quei soldi sono stati spesi per il personale amministrativo questa è la risposta che abbiamo già concordato in tante cose c'è un minimo di flessibilità sull'impegno di spesa perché ricordo ancora siamo in un regime di autonomia universitaria e ogni ateneo ha le sue regole e ogni dipartimento all'interno dell'ateneo interpreta le regole in maniera diverso ogni persona quindi cercate di farle inserire di farvele firmare ragionevolmente perché voglio dire era un'attività programmata deliberata prima della fine di ottobre 2016 io fra le cose che abbiamo detto no l'altra cosa stamattina ho raccontato però adesso faccio la sintesi non la rileggo della lettera del ministro della ministra Fedeli che ha inviato agli organizzatori del convegno che è stato a Napoli il 25 ottobre sull'orientamento universitario e sui test di ingresso quindi azione di autovalutazione in cui la ministra rivolgendosi quattro volte a studentesse e studenti della scuola cioè nominando almeno quattro volte le studentesse e gli studenti della scuola ha detto che lei era molto contenta delle azioni che facevamo e soprattutto ha lodato in maniera chiara e certa il piano lauree scientifice dicendo non solo alla fine ha lodato il piano lauree scientifice ma anche ma anche detto che tutte le attività di orientamento che noi facciamo con le scuole sono assolutamente meravigliose perfette e le piacciono molto tant'è che ha messo un finanziamento ad hoc per allargare ad altre aree scientifiche le metodologie dell'orientamento che sono state sperimentate con tanto successo in questi anni nel PLS quindi questa notizia per chi ci sente da fuori è una cosa assolutamente che ci riempie di speranza perché al di là di quello che può succedere da qui ai prossimi mesi nella situazione politica italiana sembra che ci sia l'intenzione effettiva di rifinanziare il PLS allargandolo anche ad altre aree scientifiche non si è capito bene con quali forme di finanziamento e soprattutto se ci faranno saltare un anno oppure no noi speriamo che non ce lo faranno saltare e che quindi questo eventuale bando per il prossimo triennio diciamo esca entro il 2018 cioè entro i primi sei mesi del 2018 in modo che noi sappiamo di poter contare su un altro finanziamento nei tre anni successivi qualcuno giustamente ha detto perché il problema qual è i fondi che saranno divisi suddivisi adesso io penso che sempre si tratta di arrivare poi a gennaio febbraio perché c'è il blocco dell'amministrazione eccetera eccetera l'atto aggiuntivo le firme degli atti aggiuntivi da parte di tutti gli atenei che ormai dovremmo avere imparato comunque abbiamo chiuso abbiamo chiuso non per ultimi la catena di Sant'Antonio non siamo stati gli ultimi c'è stato chi è stato più in ritardo di noi non abbiamo chiuso gli atti aggiuntivi perché c'è stato un ateneo che non l'ha firmato e io a quel punto gli ho mandato a dire che per quest'anno quei soldi li impegnavo io perché non potevo consentire che me li levassero cioè io glieli davo e poi me li davano a me perché è chiaro che se al 20 di ottobre non me l'hai mandato e firmato pur consultato tante volte basta spero che loro abbiano speso il primo anno in modo che io possa compensarli nel terzo però dovevo mettere in sicurezza tutto il sistema si era detto stamattina qualora si capisse a metà del 2018 che ci sarà il bando ma che ci sarà un po' di intervallo di tempo fra il finanziamento dei tre anni attuali e gli altri tre anni sarà utile impegnare le somme in modo che al 30 ottobre 2018 veramente abbiamo finito tutto ma utilizzandole per garantire il passaggio fra un anno e l'altro fra un ciclo e l'altro di finanziamento in modo da non perdere la continuità dell'azione sulle scuole sui ragazzi sugli studenti quindi spero che sappiamo quanto prima qualche cosa in modo da capire quanto dobbiamo spendere nei primi sei mesi e quanto ci conviene lasciarci per l'anno dopo no sto parlando del 17-18 il 17-18 arriva ma il 17-18 ti arriverà a febbraio tu cosa potrai fare se noi già sappiamo che è già uscito il bando e che quindi presumibilmente a febbraio 19 avrai l'altro anno di finanziamento ti conviene spendertelo tutto in maniera clamorosa per fare le attività ma anche se ti arriva come è stato l'anno scorso a fine anno poi ti arriva giugno quindi se tu riesci a spenderti una parte che ti serve per il 18 e una parte che te le impegni fra settembre e ottobre anzi a settembre però che ti posso dire il materiale di consumo i contratti al personale tutte le voci che ci servono ce le possiamo sempre sperando che questo resti stretto fra di noi è un po' assurdo però di fatto io non so voi ma io alcune cose che ho speso adesso mi servono per l'anno che viene ma anche il bando se tu lo fai a settembre a settembre quando lo fai tu però dal punto di vista amministrativo devi dire che l'hai speso no? ok come ha detto Carla attenzione che la cosa che ha detto Carla è più furba di quello che si pensava perché se lei dice io le attività di ottobre che ho fatto adesso me le lascio per l'anno che viene perché tanto ce ne ho già abbastanza adesso se io l'anno prossimo dovessi lasciarmi da parte qualche cosa perché lo uso nel 18-19 e quindi mi potrebbe venire a mancare qualche numero e qualche dato per il 17-18 mi sono lasciata qualcosa di ottobre 2016 sul 17-18 ok lo so che ci vuole proiezione futura non lo so io penso che se ce lo finanziano forse ce lo finanziano prima delle elezioni immagino e si questo ormai l'hanno imparato perché loro l'hanno avuto ogni volta annuale ed era terribile e quindi lavoravano anno dopo anno per tre anni e poi un'interruzione di un anno no no poi un'interruzione di anni e poi altri tre anni però ogni anno gli davano i soldi ogni anno e siccome loro hanno chiesto noi dobbiamo avere la certezza del finanziamento quest'anno questa volta per la prima volta è stato col finanziamento a tre anni poi diviso due anni le prime due annualità perché ce l'hanno mandato alla fine della prima annualità e la seconda tant'è che nella scheda di monitoraggio dell'anno scorso se vi ricordate c'era anche attività fatta nel 14-15 ma come la potevano avere fatta? Noi no ma loro sì noi no ma loro sì quindi così come loro sì e se li sono trovate le cose fatte anzi noi abbiamo sbaragliato perché quando ci siamo visti a luglio avevamo fatto molto di più e comunque di più di quelli nuovi e tanto quanto quelli vecchi quindi abbiamo fatto comunque però bisogna pensare a tutto questo domande? vi siete fermati? dai forza in quanto riguarda il consuntivo 16-17 i residui 15-16 sono comprensibili della quota di cofinanziamento di Ateneo totale ok sul totale non va riempito no c'è una scadenza lo so che ce l'hanno detto non c'è una scadenza però è veloce ok c'era qualcun altro? domande? no una cosa volevo dire e già me la sono scorda sì 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 perché se no io non arrivo perché io poi devo completare entro fine mese i primi di era 15 siccome il 15 è mercoledì 16-17 se lo riuscite a fare prima è meglio io mi rendo conto adesso non mi ricordo se ti è scritto da qualche parte ma dopo che abbiamo finito di compilare il foglio escluso il preventivo no io vedo quello che voi fate io vi spio anche in itinere anche in itinere meglio se me lo comunicate meglio se me lo comunicate non credo che stampa qualcuno ho detto ok allora l'abbiamo detto diverse volte l'allegato 4 lo mandate prima lo il vostro consuntivo se tutto è ok vi diciamo ok mandate l'allegato 4 firmato inserite non è necessario che facciamo l'invio finale no no lo vediamo comunque filippo clicca qui per inviarti i dati tu li vedi lo stesso io li vedo però il problema è che quando vi dico ok perché siccome poi l'invio dei dati esatto voi ci dovete aggiungere il preventivo perché io poi devo avere il file tutto questo a me mi viene restituito con un file excel quando voi cliccate alla fine però siccome dovete ancora inserire il preventivo voi mi indicate abbiamo finito consuntivo e indicatori e tutto il resto sul preventivo vi dico ok lo potete compilare e poi dopo cliccate tanto sul preventivo dovete prendere la cifra e distribuirla con le percentuali tranne dove ci sono problemi invece l'elenco delle scuole te lo dobbiamo inviare come file word entro il perché ci perdiamo un sacco di tempo allora il file delle scuole è importante mi prendete il file che mi avete mandato l'anno scorso che ci siamo accorti alla fine e poi è stato un delirio non ci avevamo pensato neanche noi mi confermate potete usare strisce di colori diversi le scuole che avevate già inserito e che avete utilizzato le scuole che avevate inserito e che non avete utilizzato perché magari non vi è capitata l'occasione e eventualmente le scuole nuove noi non è che le scuole nuove le inseriamo le scuole non usate le lasciamo là perché potreste usarle l'anno prossimo al terzo anno dobbiamo solo metterci flag abbiamo completato e poi io vi dico ok fate l'allegato 4 e il preventivo anzi prima l'allegato 4 vi dico ok dopodiché io devo distribuire i soldi e vi faccio fare il preventivo scusa non mi ha spuggito la conclusione sul discorso dell'alternanza scuola lavoro cioè quella osservazione che aveva fatto lei della situazione di quelle scuole che hanno utilizzato ce le metto o non ce le metto perché io non so quante scuole allora siccome a noi è stato detto le scuole l'hanno utilizzata ma non so però voi se non avete fatto la procedura di controllo che ci sia la convenzione che ci sia il progetto formativo tutor esterno tutor interno quelle non le mettete come stage di alternanza storia lavoro ma come stage PLS certo altro altro Filippo l'allegato 4 ve lo devo mandare è quello dell'anno scorso è lo stesso identico è lo stesso identico se volete ve lo rimando ma ritengo inutile perché è lo stesso esatto va bene lo rimando non ci vuole niente ve lo rimandiamo ve lo rimandiamo a giusto o come allora l'allegato 4 non è il consuntivo quello con tutte le strisce colorate che ha fatto lei è quello là formale che deve essere firmato e quindi poi si nell'allegato 4 vanno inserite soltanto le spese impegnate nel 16-17 non quelle rendi contate nel 15-16 ci sono ok no lei l'ha rimandato forte ma ma no l'allegato 4 che avete inviato tutti l'anno scorso e poi va bene adesso perché c'era stato qualche modifica e forse non c'era perché noi dobbiamo averlo conservato agli atti adesso a questo punto sarà caricato sul sul va bene controllo quello che abbiamo è controllato cosa come? si si l'ho capito che facciamo ne parliamo accenniamo a questa cosa no? no? va bene prendere una posizione ok allora vi diciamo di che si tratta e poi ve ne andate anche per cominciare ad allargare la platea della discussione perché è un problema che credo abbiano tutti gli atenei in questo momento c'è sul tavolo sul tavolo di lavoro di molti atenei l'avvio delle procedure di messa in atto intanto dei percorsi che consentono ai laureati ai laureandi di fare l'accesso alla FIT che è la formazione per gli insegnanti triennale questo percorso nuovo sapete lo sapete tutti che i laureati di tutte le discipline per poter fare fare il concorso per la formazione che è un concorso però che immette nel ruolo in qualche modo perché faranno un anno di corso e due anni di tirocinio e poi se non fanno cose cattive entreranno nel ruolo e già nei tre anni verranno pagati meno il primo anno e un po' di più il secondo e il terzo per poter accedere al concorso per entrare in questo percorso devono avere dei requisiti curriculari che riguardano i famosi settori antropo-psicopedagogici e delle didattiche disciplinari tutti gli atenei chi più chi meno chi velocemente chi meno velocemente si stanno attivando per organizzare queste attività che sono se posso dire una follia perché qualcuno mi diceva no 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 mi diceva la collega responsabile del mio ateneo pedagogista dice ci deve essere qualcuno che conosce la comunicazione di massa perché hanno fatto venire l'esigenza a tutto il mondo creato di tutti i laureati di farsi questi 24 crediti antropo-psicopedagogici il problema urgente a cui fa riferimento Carla è il fatto che è possibile per i laureandi e per i laureati chiedere il riconoscimento delle attività riconoscibili per quei settori non so se voi avete seguito tutta la discussione ci sono alcuni settori che ovviamente nessuno del nostro ambito ha M-PED M-PSI e quelli antropologici di antropologia culturale virgolette poi però ci sono dei settori che sono stati inseriti nell'allegato B del decreto dell'agosto 2017 per aree in cui che sono stati inseriti dal ministero sulla base del fatto che nelle declaratorie di alcuni settori c'è la parola o formazione o educazione o didattica oltre a quello iniziale nel caso della biologia sono quattro i settori bio02 bio05 bio07 e bio10 no no 2 5 7 e 10 che sta per botanica zoologia ecologia e biochimica botanica sistematica ok è giusto bio02 botanica sistematica qual è il problema il CUN ha preso una posizione mandando una lettera a fine settembre dicendo in fase transitoria e per quest'anno perché il decreto è uscito ad agosto 2017 e nessun Ateneo aveva nella sua offerta formativa insegnamenti in questi settori che fossero effettivamente corrispondenti agli obiettivi formativi previsti nell'allegato B il CUN chiede che vengano riconosciuti per quest'anno insegnamenti in quei settori che siano significativamente coerenti con i crediti con gli obiettivi formativi sempre inseriti nell'allegato B o o E e o significativamente coerenti sempre costo significativamente leggilo scusami che ho interrotto io rimanderei questo dettaglio è quello che no volevo solo dire il punto è come avere dei criteri più possibili omogenei per fare dei riconoscimenti sensati negli Atenei questo era il mio punto stavo chiedendo stavo chiedendo sì sì voglio solo dire che avevo chiesto al CPUI e al direttivo di cercare di discutere questa cosa rileggendosi bene il parere del CUN per cercare di forse è difficile aprire una discussione ma non apriamo stiamo informando i colleghi di questo problema perché è possibile che poi vi arriverà una comunicazione allora il CUN ha detto che ci sia una significativa quindi vaga non c'è quantificato il criterio può essere cos'è il 50% il 30% rispetto agli obiettivi due che siano coerenti con quanto scritto nelle linee nazionali per i licei per le scuole medie in realtà le scuole medie non sono citate e gli istituti tecnici cioè che i contenuti delle discipline per cui si chiede il riconoscimento siano significativamente coerenti con quello che è scritto là giustamente Carla dice questa è una cosa che lascia una vaghezza incredibile e ha detto se adesso a fine della riunione ci riuniamo come direttivo CBUI di cercare di trovare una indicazione poi ovviamente gli Atenei faranno quello che riterranno opportuno però che ci sia un'indicazione di un organismo di coordinamento nazionale in modo che ognuno può dire per la biologia abbiamo pensato che questo può essere significativo dico ancora che il CUN ha fatto questa lettera e ha fatto questo auspicio ma il ministero ha scritto una lettera dicendo una comunicazione ufficiale in cui dice tutta una cosa di precisione a proposito del riconoscimento attestazione che è di una complicazione incredibile ma dice per quanto riguarda il riconoscimento dei crediti a tenersi adesso le parole precise non le sono a memoria a tenersi a quanto scritto nella comunicazione del CUN quindi il ministero ha recepito l'indicazione del CUN ci piaccia o no e ha detto fate riferimento a quella comunicazione io ce li ho tutti ora ve li giro ok quindi è una circolare ministeriale è un parere esatto è stata fatta adesso ce la guardiamo insieme però in un angolino ha scritto per i criteri di riconoscimento fare riferimento alla indicazione del CUN che erano indicazioni il CUN non è che fa norma il CUN dice si dovrebbe fare così ma il ministero l'ha recepita quindi noi adesso cerchiamo di trovare un accordo in modo da dire e ve lo comunicheremo un po' come CBUI un po' anche come PNLS che tutto sommato è un coordinamento di persone che lavora anche con gli insegnanti quindi l'interesse c'è potete anche farvi portavoce allora no gli si poteva riconoscere credo nel master o nel dottorato master o dottorati possono essere utilizzate cioè attività attività formative riconoscibili all'interno di master o dottorati ad hoc certo volevo volevo sapere a Pisa sono già cominciati questi corsi per questi 24 credi ecco appunto di questa cosa è la prima volta che lo sento dire adesso cioè infatti volevo sapere se ho capito bene quindi se una persona sta seguendo questi quattro corsi questi quattro esami che deve fare se ha fatto in passata degli esami del bio 2 5 7 e 10 dovrebbe un pochino di sconto ma come si fa a scontare i conti no 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 non è un pochino di sconto se glielo riconosci glielo riconosci punto e basta e siccome non è nessuna sovrapposizione tra i quattro corsi che uno deve fare perché c'è la tua politica culturale che non è neanche è bio 08 ma non non è bio 08 non è quella e poi gli altri tre che non sono allora sono le didattiche disciplinari le didattiche disciplinari il quarto ambito che è quello delle didattiche disciplinari e tecnologie didattiche è quello per cui se ti leggi bene tutto il documento e il decreto poi ti rimanda all'allegato nell'allegato sono indicati gli obiettivi formativi della didattica disciplinare per ogni area e poi sono indicati nel transitorio alcuni settori dicendo nel transitorio rispetto al fatto che si pensa che sarà opportuno prevedere dei settori una rivisitazione dei settori scientifici disciplinari intanto nel transitorio che in Italia può durare anche 20 anni hanno definito questi quattro settori per la biologia e altri settori per la geologia un certo numero di settori per la la dipende la dipende da come si orienta l'Ateneo e siccome siamo in regime di autonomia universitaria ogni Ateneo può decidere quello che ritiene opportuno sì no 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 nel 3 più 2 più più master qualunque cosa qualunque in un percorso curricolare o extra curricolare opposto dopo laurea no volevo dire all'osservazione sua che il riconoscimento crediti tra l'altro il ministero prevede che alla fine intanto i crediti possono essere riconosciuti tutti e 24 oppure no questa non lo dice il ministero l'ha detto alcune è una raccomandazione abbastanza condivisa a quanto mi risulta quindi gli studenti possono chiedere transitoriamente il riconoscimento di qualche esame secondo i criteri a discrezione che ogni gruppo si darà ogni ambito di settori no perché per esempio in Sapienza noi ci siamo divisi in area bio area matta area fis e tutte le altre aree allora riconoscimento di questi pezzetti tra l'altro c'è la conversione in crediti perché questi ragazzi potrebbero aver fatto questi esami dieci anni fa quindici anni fa prima di che riconoscimento di pezzetti in attesa di conseguirli tutti per un riconoscimento del percorso formativo perché il ministero autorizza a attivare percorsi formativi nell'ambito dei 24 CFU nell'ambito dei quali eventualmente anche riconoscere crediti già fatti nell'offerta formativa fino al 2016 2017 se riteniamo in base a questi criteri quindi nella fase finale il ministero ti dice anche che i 24 devono fare un percorso coerente quindi c'è anche il caso che si possano si riconoscano pezzetti ma poi non si riconosca la coerenza generale anche qui ogni Ateneo prenderà le sue decisioni perché non c'è stata una vera consultazione dei rettori che hanno dato poi indicazioni a valle la parte del riconoscimento crediti è una parte delicatissima ed è una parte che sta partendo insomma in quasi tutti gli Atenei è già ci si sta lavorando quindi ci vogliono delle commissioni con nomina rettorale cioè chi dice che quel programma è corrispondente si prende una grande responsabilità quindi per esempio nel mio Ateneo il rettore farà nomine decreti rettorali poi ci saranno commissioni che certificano la coerenza dei 24 quindi non si può improvvisare io mi trovo attualmente con questo problema di avere una serie di materie dentro i settori B02 e B07 di cui i docenti chiedono che siano riconosciute ma che sento il bisogno di avere questo confronto e credo che sia beneficio di tutti purtroppo saremmo dovuto farlo collegiale così però i tempi sono maturi per prendere una decisione operativa presto poi comunicarla e vedremo perché se dobbiamo dire sì o dobbiamo dire no secondo me lo dobbiamo dire tutti quanti più o meno nello stesso modo c'è una complicazione ulteriore che riguarda il mio Ateneo non ve la dico però c'è un'urgenza per me molto grande quindi se è possibile anzi se qualcuno ha qualche esperienza già fatta la porti i vostri i vostri studenti andranno altrove questo succede quando noi non eravamo diciamo la sapienza questa volta è stata pronta fra i primi ma qualche Ateneo è partito prima ancora abbiamo avuto richieste dai nostri studenti di fare queste attività in quegli altri Atenei e di avere il permesso di sforare i sei mesi dall'Ateneo sapienza quindi gli Atenei hanno molta urgenza perché non vogliono perdere gli studenti se ne accorgeranno anche il vostro insomma esatto vedi che è sempre l'informazione utile mi dice la collega anzi io ho reagito bisogna vedere se il riconoscimento effettivamente è favorevole allo studente al laureando al laureato oppure no perché il problema qual è? Queste conoscenze per cui si sono chiesti i requisiti curriculari servono ad affrontare la seconda prova del concorso la prima prova sarà disciplinare la seconda sarà nell'ambito delle pedagogie psicologie antropologia come inclusione e tecnologie e metodologie didattiche chiaro che chi si fa mettiamo che si decide che si possono riconoscere 12 crediti perché il problema è che questi crediti 24 devono essere distribuiti su almeno tre settori quindi tu puoi avere un settore con 6 un settore con 6 un settore con 12 quindi tu nel migliore dei casi o nel peggiore dei casi ti fai riconoscere 12 crediti poi ti mancherà quella competenza per esempio delle parti che non ti sei fatto non so se mi spiego perché se tu dici io mi faccio la pedagogia e l'antropologia come inclusione la diversità tutte queste cose perché il sillabus è molto preciso e non mi sono fatta la psicologia e non mi sono fatto la didattica le metodologie didattiche trasversali fatte dai pedagogisti potrei avere delle carenze però risparmio tempo risparmio soldi e se voglio me le preparo anche da solo perché non è detto che se tu hai fatto l'esame e ti sei seguito un corso hai poi tutte le competenze qualcuno dice ci dobbiamo prendere la responsabilità perché questo l'hanno detto anche i colleghi del mio ateneo perché dobbiamo portarli tutti a essere preparatissimi per fare questo concorso premetto che sta per uscire il concorso per gli abilitati che uscirà il concorso per quelli che hanno 360 ore i posti che resteranno saranno messi a concorso per tutti gli altri quindi saranno pochi nel mio ateneo hanno dichiarato interesse a fare il percorso dei 24 crediti 2.000 persone hanno presentato 4.500 istanze di riconoscimento crediti quindi immaginati che platea di follia c'è nel riconoscimento ho parlato con diversi laureati e studenti che mi hanno spiegato che non avevano capito niente quindi questi hanno chiesto riconoscimento di 10.000 insegnamenti cioè c'è una confusione imperante perché diciamo io per fortuna non sto direttamente nella commissione perché diciamo perché no però questi colleghi devono andare lì e fare un lavoro godendo di un minimo di copertura no? e quindi bisogna assolutamente che ne parliamo tra l'altro qualcuno mi diceva che l'Ateneo che decidesse di non riconoscere i crediti perché non trova la significativa corrispondenza con uno e con l'altro requisito indicato da alcun si sottopone alla possibilità di avere un ricorso nell'immediato esatto quindi 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 è così va bene domande? risposte abbiamo bisogno di risposte però le risposte vengono se vengono fatte le domande noi abbiamo tante domande interne però se voi ne avete altre vi terremo aggiornati quindi ci dovrebbe essere una valutazione dei programmi bio 07 per dire per vedere se nella voce a quanto capisco c'è una vi scriveremo vi scriveremo è chiaro che c'è esatto è chiaro che ci vuole un minimo di aggancio possibile perché non puoi riconoscere tutto quello che è stato fatto infatti io devo dire che nel mio dipartimento l'altro giorno un geologo perché i geologi si stanno attivando in maniera clamorosa su questo punto e questo ha fatto una lettera così dicendo chi è che sa chi sono questi della commissione chi è com'è che noi non siamo stati consultati perché è anche vero che i laureati di ogni classe di laurea di ogni settore vanno dice ma come a noi non ci riconoscete al peggio non c'è mai fine allora una cosa che ha fatto l'Ateneo Sapienza ma io mi metto dentro perché ho partecipato a questa decisione però è stata una cosa incauta è quella di dire allora un conto sono come organizziamo questa offerta formativa allora abbiamo organizzato un percorso da 24 CFU di master quindi solo per laureati abbiamo identificato abbiamo organizzato dei corsi solo per i laureandi quindi già presenti nell'offerta formativa perché non li potevamo amplificare o aggiungere e poi abbiamo identificato dentro l'offerta formativa alcuni corsi che potevano essere di per sé riconosciuti ne abbiamo fatto la lista purché sostenuti nell'anno accademico 17-18 cioè attuale offerta formativa nell'identificare questa lista dei corsi io diciamo come chi si occupa di queste cose ho parlato con i colleghi di quei settori ho fatto prima due riunioni così e poi ho detto adesso fate le vostre proposte di corsi sulla base della coerenza degli allegati mi certificate questa coerenza inseriamo in in lista che cosa è successo che alcuni corsi bio02 bio07 sono entrati in questa lista e sono pubblicati dall'Ateneo e gli studenti si stanno già iscrivendo come corsi singoli adesso si sono svegliati tutti quelli che non si erano svegliati prima e tutti vogliono stare in queste liste cosa che non potrà essere fatta no ve lo dico per dire quando poi ve ne occupate a un certo punto vedete che ci sono cioè se non c'è questa siccella adesso per me l'unico modo di dire tu puoi stare o tu puoi non stare in questa lista ammesso che la possiamo rettificare è avere questa siccella si scatena una rincorsa dopo che l'Ateneo aveva pubblicato questi elenchi un piccolo elenco di materie bio i Geo hanno fatto una protesta pubblica perché di settori no cioè noi siamo una facoltà ancora quindi dentro ci sono tutte le componenti quindi no quindi muoversi senza mentre i Geo si muovono con un conforto nazionale perché loro si sono riuniti a livello nazionale noi non l'abbiamo fatto ancora adesso quello che io ho fatto a Roma toccherà metterlo come precedente quello che facciamo voglio dire quei settori bio 0 quei corsi bio 0 2 bisogna che lo troviamo un criterio di fargli entrare e quindi insomma diciamo mi dispiace ma purtroppo questa roba qua vi costituirà uno zoccolo dal quale ripartire perché non si possono più cancellare esistenti esistenti però naturalmente tutti gli studenti questi corsi sono nell'offerta formativa 17 18 questi stessi corsi sono nell'offerta formativa dell'anno scorso magari sono in altri corsi di studio magari e non sono stati indicati erano presenti con altri nomi nell'offerta formativa di sei anni fa magari allora tutti quegli studenti che hanno fatto quei corsi che si assomigliano a questi tutti chiederanno il riconoscimento come si fa a dire riconosciamo a tutti cioè la siccella a un certo punto serve perché uno può dire in questi 2017 2018 li ho messi in lista certifico io Ateneo che abbiano certi requisiti gli altri me lo devono dimostrare di avere gli stessi requisiti quali sono questi requisiti no 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 io diciamo l'Ateneo ha istituito l'Ateneo ha istituito un gruppo perché non è che ne vuole poi sapere tantissimo ha istituito un gruppo uno per la facoltà di scienze uno per la facoltà di lettere uno per la facoltà di economia tre prorettori quello che si decide in quel gruppo poi si fa naturalmente ci vuole qualche criterio decisionale quindi adesso noi siamo abbastanza liberi però se non ripeto i riconoscimenti si devono fare a partire da alcuni requisiti che vanno identificati poi diventa più facile per tutti poi diventano scelte difendibili altrimenti se un Ateneo riconosce e l'altro non riconosce o se riconosciamo un corso nell'offerta formativa esistente e uno e non uno nell'offerta pregressa gli Atenei finiscono nei guai questo è il lavoro del CUN questo l'ha fatto il CUN con un criterio soggettivo ma che poteva essere applicato omogeneamente a tutte le aree hanno fatto una selezione drastica che naturalmente non rappresenta fino in fondo neanche quello che abbiamo fatto per dire ci sono corsi di metodologie didattiche che non sono ci sono state negli Atenei per esempio nel mio corsi di metodologie didattiche o di storia della biologia che non avevano quelle quattro etichette ma un altro settore e che gli studenti non potranno vedersi neanche riconosciuti quindi sono quelle cose del transitorio naturalmente molto incomplete vedete scusate questo è importante il CUN ha pescato quei quattro settori perché sono gli unici dei settori bio che hanno conservato nelle declaratorie questo l'ha detto voi dovete sapere che i settori MAT FIS e CHIM tutti hanno tutti la stessa frase quindi bisogna cambiare le declaratorie in prospettiva